Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo make up tutorial sui toni interamente del grigio è strano che mi vedete fare un make up monocolore ma devo dire che questo mi piace tantissimo ho voluto provare questo campioncino di Collistar che è un fondotinta super idratante ve ne parlerò poi meglio nei prodotti finiti e lo stendo come sempre con la spugnetta in lattice applico il camouflage cream di Catrice sulla zona delle occhiaie e sulle piccole imperfezioni applico il Maybelline Instant Anti-Age nella zona sempre delle occhiaie e nelle zone che voglio andare ad illuminare come il naso, l'arco di cupido e il mento e lo sfumo bene applichiamo il primer sugli occhi e utilizzo sempre questo di Essence, la Love Stage ormai ne avrete la nausea ma mi assicura assolutamente un trucco perfetto fino a tarda serata sistemo le sopracciglia con la Natural Ebro Designer della Benecos e iniziamo il trucco occhi prelevo con un pennello piatto piuttosto grande questo grigio opaco che si chiama Biker Chic e lo vado a stendere su tutta quanta la palpebra mobile dell'occhio aggiungo poco prodotto alla volta perché comunque come vedete è bello pigmentato e devo dire che stranamente non avevo un grigio opaco fino all'arrivo di questa palette con un pennello da sfumatura lo vado a portare nella piega e un pochino verso l'alto e vado ad intensificare la fine dell'occhio dalla mia palette personalizzata neve prendo Plastic che è questo illuminante e lo vado ad applicare con un pennello piuttosto largo diciamo sotto l'arcata sopraccigliare e come angolo interno dell'occhio come punto luce prendo la matita di Liver Rocher la stilo waterproof ovviamente nera e avendo questa puntina fina riesco a fare una riga di eyeliner molto più precisa di quanto riuscirai con un eyeliner vero e proprio lo sapete sono un po' una franetta lo vado ad intensificare con un pennellino angolato e con Black Sheep di Neve Cosmetics applico la matita nera anche all'interno dell'occhio e con il pennello ancora diciamo sporco di grigio lo vado anche a passare sotto l'arcata inferiore sotto l'arima inferiore applico il mascara bianco della Essence Lush Base che lo sto davvero adorando e sopra ci passo l'Hypnose Drama di Lancôme per un effetto super ciglia questo qui sarà l'effetto finale degli occhi tra l'altro in videocamera è anche meno intenso eccomi qui con entrambi gli occhi truccati ed ora vado ad applicare sotto tutto quanto il viso la Cipria Hollywood di Neve Cosmetics con un pennellino piccolo la passo prima sotto l'occhiaio per fissare il correttore e poi su tutto quanto il viso applico la Bama Mama di The Balm che avete visto nel mio ultimo video haul con un pennellino leggermente angolato che ho di Essence e vado a fare una sorta di contouring il nuovo blush non potevano provarlo questo è quello della Kiko sempre che avete visto nel video haul ed è davvero fantastico qui ho applicato la parte rosa diciamo quella totalmente opaca applico questo fantastico illuminante della Makeup Revolution anche lui ultimo acquisto e lo vado ad applicare con questo fantastico pennello a cuore che ancora non vi avevo mai fatto vedere che ho preso da H&M con la matita perfettina di Neve Cosmetics vado a contornare le mie labbra e la vado a sfumare con il dito per non far vedere lo stacco infine applico il rossetto Fast Play di MAC e c'è sempre qualche rompino intorno e niente ragazzi e questo è il trucco diciamo finito come sempre dalla videocamera non rende magari quanto dal vivo però devo dire che con queste nuove luci che insomma questa nuova postazione va un pochino meglio attendo come sempre i vostri commenti spolliciate in su spero davvero insomma che vi sia piaciuto e come sempre vi aspetto nel mio prossimo video un bacio ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.